Noi sappiamo cosa succede qui. Ah sì, è che gliel'ha detto la mamma o il papà? Fino alle Olimpiadi vi abbiamo sopportato, però adesso... Il Führer, il popolo e la patria chiudono i bordelli? Vi passerà la voglia di scherzare. Andate a coltivare i campi. Oppure? Oppure vi sottometterete ai nostri ordini. Cosa facciamo? La federazione delle puttane? Il gruppo speciale l'Ussuria. Conosciamo la vostra collaborazione con i diplomatici. È una cosa che non possiamo tollerare.